Ciao a tutti, moltissime sono le domande, arrivata la rubrica Scrivi a Gallera, che riguardano il tema della transizione ecologica, il tema dell'ambiente. E quindi tanti mi chiedete come possiamo rendere più green la nostra Lombardia. Per me questo tema deve essere uno degli obiettivi prioritari della prossima legislatura. La grande siccità che abbiamo vissuto quest'estate e anche le temperature anomale di questo periodo rappresentano la testimonianza diretta di questi preoccupanti cambiamenti climatici. La sfida quindi è quella di affrontare la transizione ecologica con determinazione, ma nei tempi giusti, senza penalizzare il sistema produttivo Lombardo e le nostre aziende, che devono avere il tempo e la possibilità di trasformarsi. La transizione ecologica è una grande opportunità anche di sviluppo economico e produttivo. In questi anni abbiamo compiuto passi importanti e io ho lavorato molto in questa direzione. Per esempio ho lavorato direttamente all'approvazione delle leggi sulle comunità energetiche, che consente ai territori di diventare autosufficienti grazie alle energie rinnovabili, oppure alla legge che destina finanziamenti importanti a chi colloca pannelli fotovoltaici. Questo è quello che ho fatto e questo è quello che voglio fare.